Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, 5 km di coda per incidente tra Incisa Reggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Coda per incidente anche in A11 per 3 km tra Prato Ovest e Bavia 11 a 1 e in Fipili per 2 km tra Cascina e Navacchio Visignano in direzione Pisa. Sempre in Fipili ma in direzione Firenze e code a tratti per traffico tra La Strassigna e Firenze Scandicci. Ricordiamo inoltre il disagio alla mobilità nella zona interessata dall'incendio sul Monte Serra nella zona di Cascina e Vico Pisano. Ultima pagina per la cantieristica fino al 9 ottobre sulla Siena Firenze, transito consentito doppio senso di marcia su un'unica carreggiata per circa 3 km tra Badesse e Siena Nord. Lo svincolo di Badesse sarà chiuso in ingresso verso Siena fino al termine dei lavori. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!